Il santo del giorno, il tempo e poi i giornali, il santo di oggi, lo vediamo con la grafica San Cono. Il sole è sorto alle 5.55, tramonterà 18.31. Andiamo a vedere il tempo. Il tempo sarà oggi poco parzialmente nuvoloso, avremo residui e precipitazioni sparse, soprattutto nel centro meridionale, nella parte del centro meridionale, con il limite della neve attorno ai 1.400, in rialza nel pomeriggio fino a 1.700 metri. Domani cielo sereno, poco nuvoloso e lunedì invece torna il cattivo tempo, con precipitazioni dalla tarda mattinata sparse, soprattutto nel settore centro settentrionale, per divenire diffuse poi su tutta la regione nel pomeriggio. Il lento transito di una saccatura da ovest attiverà flussi di libeccio, con sistemi nuvolosi associati ai fenomeni di instabilità, almeno per la prima parte della settimana prossima. Andiamo subito a vedere allora i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. La fotonotizia è per l'ex primario di pneumologia, che purtroppo non ce l'ha fatta in lacrime, per Ugolini. Questo è il titolo, ma c'è anche l'apertura con la denuncia del figlio di Roberto Oddo, che aveva 46 anni, il figlio Stefano, che dice ecco come è stato curato all'inizio, con tanti errori, così è morto il mio fratello. Scusate, non il figlio, il fratello. Altre 28 vittime invece, ora sono 364 in tutta la regione, questo è il bilancio. E poi la curva epidemica che scende leggermente, quindi dà segnali di speranza, spiragli di speranza. E poi a 100 anni la storia di questa donna, che cuce le mascherine fatte in casa, mentre sull'ospedale nuovo niente ancora sarà fatto a Civitanova. Bocciata anche l'ultima ipotesi, nel capoluogo d'Orico si va più a sud, mentre le badanti restano anche a rischio di contagio. In pochi hanno deciso infatti di andarsene e in diverse sono risultate positive. L'arcivescovo di Pesaro, affidiamo la città alla Madonna delle Grazie. Questa invece è l'apertura del Corriere Adriatico di Pesaro, gira la ruota, tocca a Civitanova. Scartato anche l'ex genni per il nuovo ospedale, la regione ora punta sul cappannone della fiera. Il virus non fa sconti, nelle Marche altri 26 morti, 364 in totale, nell'ultima settimana sono 180. Ugolini si è arreso dopo tre settimane, è morto in rianimazione per una polmonite legata al virus, l'ex primario di pneumologia Marcello Ugolini. E poi c'è l'intervista all'interno del Corriere, quella a lezione di mio fratello Carlo Urbani, capita però a metà, parla la moglie. E sotto un salvagente per i bagnini, fateci sistemare la renile, richiesta dei concessionari di spiaggia a Fano, l'oasico partigianato dice, in Romagna lo fanno. E poi c'è la notizia che stanotte torna l'ora legale, le lancette degli orologi andranno spostate un'ora avanti. Allora, andiamo a vedere le notizie interne, la Marche come Milano, la maxi rianimazione si farà dentro a una fiera, scartato dunque l'ipotesi dell'ex genne perché piove dal tetto, si va dunque a Civitanova, serve una task force dei medici ed infermieri per 100 pazienti gravi. Il virus, la strage silenziosa, in una settimana 180 morti, ieri altre 26 vittime, in tutto 364, frenata dei contagi ma con meno tamponi. E poi c'è un codice IBAN per raccogliere 12 milioni, la Regione lancia lo sprint per le donazioni delle imprese. La lezione di Carlo, utile a tutto il mondo ma compresa soltanto a metà. La moglie del medico Urbani, nell'anniversario della morte per SARS nel 2003, riuscì a far chiudere le frontiere. Ora invece, dice la moglie, si è perso tempo. Ugolini ha lunga battaglia finita, l'ex primario non ce l'ha fatta. Dal 28 febbraio è rimasto attaccato alla vita con tutte le sue forze. Ieri la terribile notizia. Seppere il contagio dopo una cena al circolo Arci di Villa Fastigi, se ne va un uomo eccezionale. Sotto è morto Marco Fraternale, il fotografo amico, aveva 83 anni ed era uno dei fotografi più conosciuti e stimati della città di Pesaro. Via da malattie infattive, i contagiati tornano a casa. Il primario Barchiesi dice nell'arco di 15 giorni li abbiamo dimessi tutti, per noi sono guariti dal punto di vista clinico, ma serve il doppio tampone. Temono, questa è la preoccupazione di chi esce e torna a casa, temono di infettare i familiari. Ma la loro carica virale ormai si è affievolita, quindi non ci sono problemi, basta semplicemente osservare le regole della quarantena. E a Galantara spuntano altri 19 posti letto, adesso sono 37. Quando la città appestata pregava la Vergine, nei momenti più catastrofici, a Fano i fanesi si affidarono alla Madonna della Speranza o alla Madonina di Piazza, quella che sta in piazza 20 settembre. Oggi la storia praticamente si ripete, a lei si sono rivolti durante il colera e poi per l'epidemia della Spagnola. All'immagine è stata dedicata anche una preghiera ufficiale. Poi la burocrazia che rischia di bloccare gli aiuti per la casa di riposo Caradolini di Mondolfo. Era stato richiesto l'intervento di medici senza frontiere. Il Vescovo affida la città alla Madonna delle Grazie e domani il Rosario nel Santuario. Il tutto ricorda il colere del 1855. L'Arcivescovo di Pesaro Coccia dice Grande sofferenza, ora serve il coraggio della fede. E poi si ricorda che ci saranno le bandiere a mezzasta in omaggio delle vittime, in segno di lutto per i morti dell'emergenza coronavirus. La provincia e il comune di Pesaro accolgono l'invito dei presidenti nazionali dei lupi, eccetera, eccetera. Quindi martedì 31, entrambi gli enti osserveranno un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19. Questo alle ore 19, con bandiere a mezzasta. Montecchio, in lacrime invece, addio a Paolo Ciamaglia, fu tra gli artefici e i pionieri del legno negli anni 60. Aveva 85 anni. E se ne è andato anche il colonnello, la morte di Valente Andruccioli. Andruccioli di 92 anni. La CGL ricorda uno dei suoi personaggi più amati, l'omaggio di Ucchielli. E ha gli arresti, ma fugge. Vado in quarantena a casa, gli dice ai carabinieri. Un quarantenne vade da una comunità e torna in famiglia. Il militare dice che il medico gli ha riscontrato al telefono i sintoni del coronavirus. A quel punto i militari hanno dovuto prendere atto che il fuggiasco doveva rimanere lì. Corsa la cassa integrazione. I soldi però non ci saranno subito. I sindacati dicono che ci sono lavoratori che rischiano di restare mesi senza paga. Si tratta dei dipendenti delle aziende che non sono in grado di garantire gli anticipi. Lina che ha 100 anni, ora cucio mascherine, ha vissuto un'altra epidemia. La spagnola, mia sorella fu salvata da un soldato. E adesso lei si dà da fare per confezionare protezioni. Meglio realizzarle casalinghe, così ai sanitari restano quelle professionali. Mencoboni, allenamento a domicilio, ma penso a chi sta soffrendo. L'atleta paralimpica sognava le Olimpiadi, ora ha stravolto tutti i suoi programmi e dice lei mi manca la pista. Manzini invece so di essere a rischio, lo sport è la mia medicina. I bagnini in cerca di un salvagente, fateci sistemare gli stabilimenti. Oasi confartigianato dice prenotazioni a zero, ma possiamo preparare la stagione, in Romagna già lo fanno. Ora però non abbandonate gli animali a quattro zampe. Anna Muruso della Nuova Fano dice non trasmettono il virus, anzi aiutano a stare in casa. Vasche dell'Arzilla, osservata speciale, la data di fine intervento dovrà per forza essere aggiornata, ma i 5 Stelle monitorano la situazione. Interrogazione sul tratto della ciclabile adiacente al cantiere e interdetto al passaggio dei residenti. Sotto impianto di Ghilardino, nessuna nuova attività. Il sindaco di Fossombrone rassicura il comitato dopo le segnalazioni. Malati oncologici, SOS di Adamo, aiutateci. La Onlus lancia un appello, intanto il personale continua la sua missione, ma in condizioni critiche per via dell'aumentato rischio. Andiamo avanti grazie al buon cuore dei benefattori e ai volontari. Intanto il virus spaventa i topi d'appartamento, il Covid scoraggia, i ladri e le razzie sono in calo, ma è naturale nel periodo della quarantena. Va salvaguardata invece l'efficienza dell'ospedale anche per i pazienti con patologie diverse. La sindaca Guidarelli a Pergola e l'assessore Ilari chiedono per la città un confronto con Asur e con la Regione. Sotto da Mondolfo lo sportello delle poste apre in via eccezionale la mattina del 30 marzo per consentire di pagare le pensioni. E con questo chiudiamo la nostra segna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che domani, domenica alle 10 in diretta dalla Cattedrale Duomo di Fano, trasmetteremo la Santa Messa in diretta su Fano TV e quindi vi aspettiamo. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.